Voglio guidare il piede, che ti costa? Ah, questi video! Ah, dai! Non c'è neanche il guardo. Guarda che si diamo la mossa, sennò qua facciamo un'altra. In giro per Bologna! Ah, questo lo chiameremo il video più noioso del web. Esatto, Picciu! Ah, Picciu! E' vero, Picciu! Quell'autista, il bicicletto alto a 5! Così si fa, così si agisce, come dei polli! Come potete osservare, siamo in Bologna centro, ci stiamo divertendo con un po' di musichina e ce ne andiamo giù in cantina! No, per l'amor di Dio, in cantina no! Però ci divertiamo! Come stiamo andando, Picciu? Stiamo andando a comprare del polpo! Il che è tutto dire! Il polpo del cavallo! Andiamo, vatti meglio! Ah, guarda il polpo! Vedi come le tue sirene funzionano bene! Zorono, funziona! E' be', quando devo partire, devo partire! Guarda, guarda che adesso ammazza uno! Guarda, 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 guarda! Ehi! Il cane è scacciato! Guarda, 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 guarda a 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